Daniele Villa, amministratore delegato Padova a Fiere, come sta andando la fiera campionaria, numeri e curiosità? Allora, ha iniziato veramente con un grande successo questo primo weekend, tra sabato e domenica oltre 100.000 visitatori sono già venuti a vedere la nostra fiera campionaria e ce ne aspettiamo più del doppio nel corso del proseguo della settimana, quindi superando ancora i 300.000 visitatori. Grande novità quest'anno sono diverse, innanzitutto la presenza importante di Promex, quindi Camera di Commercio, con l'iniziativa dell'Expo, quindi Come to Padova Discover Expo, ci sarà tutta un'area attrezzata per vedere tutte le iniziative fatte in promozione dell'Expo. Poi tutta l'area dedicata ai bambini, quest'anno il villaggio dei bambini si è veramente ingrandito, c'è tutta un'area in esterno con attrazioni, giochi, dedicate dai più piccoli ai più grandi. Cito per esempio anche un cinema 8D, che veramente è una cosa spettacolare e tutti dovrebbero provare. E poi tante novità anche all'interno dei padiglioni, c'è tutto un padiglione dedicato alle birre, micro birrifici, quasi una ventina presenti che presentano oltre 100 etichette e poi tutta la serie di iniziative legate ai convegni, all'informazione, sport, nutrizione che si svolgono nel corso dell'arco della settimana. Una fiera diciamo che è pomeridiana serale come orari? Esattamente, la fiera campionare apre alle 4 e mezza di pomeriggio fino a mezzanotte durante la settimana e dalle 10 alle 24 durante il weekend. Ricordo venerdì sera i fuochi d'artificio, quindi alle 23 nel viale centrale saranno presenti questo grande spettacolo ed anche tutta una serie di iniziative legate anche all'intrattenimento più generale, quindi vi ricordo anche i cavalli per i più piccoli, le animazioni dei gruppi cinofili, la presentazione di Balli Country in previsione della fiera che facciamo il prossimo gennaio, quindi tante iniziative e tante modalità di divertirsi, 200 eventi che sono stati programmati nel corso della settimana, oltre 50 proposte culinarie, quindi c'è veramente chiunque può trovare quello che più gli piace nella fiera campionaria. Grazie.